Sono divise in tre giorni le attività messe in atto dall'Associazione Provinciale Cuochi Pescara in occasione della 29esima edizione di Luca Rattur d'Ore. In questa edizione saremo presenti innanzitutto nella Sala Eventi della fiera Saral Food in Via Tirino a Pescara. Saremo presenti già da domenica con un programma molto fitto dedicato al mondo al femminile, alle cuoche, e con delle lady chef che si presenteranno con dei cooking show e delle degustazioni con dei nostri sponsor. Mentre invece la giornata più preziosa arriva lunedì con il concorso, la competizione. Quest'anno ci sono state selezionate 13 concorrenti con 13 ricette inedite su 23 pervenute dalla commissione che le ha severamente selezionate. I giudici in gara sono 5-4 chef del parterre nazionale, quindi della Federazione Italiana Cuochi, e il presidente di giuria è il nostro affezionatissimo Massimo Di Cinchio. A partire dalle ore 16.30-17 ci sarà la proclamazione dei vincitori. Anche per quest'anno è in uscita l'opuscolo del Luca Rattur d'Ore 2019. Sono i pezzi ormai più attesi dai ristoratori, dai collezionisti d'Abruzzo e non solo. Ecco, qui quest'anno il nostro opuscolo è firmato da Mauro Uliassi, che è un affezionatissimo anche lui della nostra terra d'Abruzzo, e in più abbiamo il piatto celebrativo di un artista abruzzese, che ormai è diventato una pièce da collezione. Ve lo presento che quest'anno è dedicato al loro rosso d'Abruzzo, lo zafferano DOP di L'Aquila.